Qual è la valutazione che dà alla performance di questa lista a livello locale? Noi siamo molto contenti naturalmente perché abbiamo avuto un risultato al di sopra di ogni aspettativa da parte nostra, sapevamo che la strada era in salita però penso che il radicamento che abbiamo nella nostra regione, l'esperienza che abbiamo fatto, i temi che abbiamo messo in campo e forse un pochino anche la credibilità delle nostre persone, non solo della mia ma di tutta la lista, hanno avuto un certo effetto sull'elettorato, noi siamo molto contenti. E pensiamo che sia un risultato molto importante anche per il futuro. A livello nazionale invece le cose sono andate diversamente, come mai? A livello nazionale preoccupa non solo e non tanto direi il risultato non eccellente della nostra lista, non è trascurabile ma non è eccellente, quello che preoccupa è il fatto che il quadro generale è un quadro molto frammentato nel quale è difficile scorgere in questo momento l'ipotesi di un governo duraturo, stabile e all'altezza dei problemi. Servirà dunque riflettere molto, servirà interpretare questo voto, io sono dell'idea che non si possono condannare i cittadini per come votano, bisogna capire perché votano anche quando votano in una maniera che magari lì per lì sembra piuttosto fantasiosa, vuol dire che c'è qualcosa da capire in profondità e penso che tutte le forze politiche dovranno impegnarsi per questo. Grazie a tutti.